Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove adesso ci sono due chilometri di coda per un incidente avvenuto tra Chiesino Zanese e Capannuri in direzione Pisa. Guidare con prudenza per la nebbia a banchi in A1 tra Roncobilaccio e Aglio. È provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni il raccordo autostradale Bettolle-Perugia in corrispondenza del chilometro 2.800 a Cortona, a causa di un incidente tra un mezzo pesante e un'autovettura. Il traffico è deviato con uscita obbligatoria a Foiano della Chiana. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori nel tratto compreso tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!